Il comitato elettorale del PDL ha stabilito che entro la mezzanotte di venerdì dovrà essere indicato il candidato sindaco, ma la senatrice Paola Pelino prende tempo. Al momento i nomi ufficiali sul tavolo sono quelli di Enea Dianni e Nicola Angelucci, non ve ne sono altri. Resta poco alla scadenza che il comitato si è imposto per la scelta, ma c'è il rischio di andare oltre, in quanto l'Apelino avrebbe in tasca due nomi che però non ancora vengono svelati. Al vertice di ieri sera mancava proprio la parlamentare azzurra che ha delegato Gaetano Pagone. Presente anche Cassaggi con Alessandro De Gennaro, nonostante che il movimento nei giorni scorsi aveva parlato di situazione di stallo, riferendosi anche al centrodestra. La posizione con Cassaggi va infatti ben definita per queste ed altre ragioni che l'ex sindaco Fabio Federico intende al più presto chiarire con Antonio Santacroce. Chiarimenti sono stati sollecitati anche da Marco Piccini di Fratelli d'Italia perché, se al tavolo siede Cassaggi, ha detto, hanno titolo a partecipare anche la destra e Casa Pound. In attesa di ben definire la posizione, si attende la serata di venerdì per stabilire sia i nomi di Dianni ed Angelucci ne aggiungerà altri l'Apelino. Se non dovessero spuntare terzi incomodi, la scelta ricadrà tra l'ex vice sindaco e l'ex presidente del Consiglio Comunale. Fabio Federico è fuori ufficialmente? L'ex primo cittadino fa parte del comitato che ha stabilito di non candidare a sindaco nessun componente. Solo se non si dovesse arrivare ad un accordo si potrebbe optare per uno del comitato.